Hello hello vanitose e vi accomi di nuovo qua e nel video di oggi vi mostrerò alcuni capi che ho ricevuto da dropshipclothes.com un negozio online che ha dei prezzi super super accessibili Hanno una enorme varietà di capi, sia degli abiti mini, mini, lunghi, di tutte le misure Hanno anche vesti tipo size, pantaloni, pantaloncini, bikini, proprio di tutto e di più e vi invito assolutamente a dare un'occhiata perché ne vale super appena, è arrivato anche molto veloce circa 5 giorni, il pacco era già arrivato a casa mia, non ho pagato dogana né niente e per tutti i capi che vi mostrerò in seguito vi lascio il link qua sotto nell'info box Se è la prima volta che passi da queste parti, benvenuta, io sono Brigida Ferrocini e ti invito ad iscriverti subito su questo canale se vuoi vedere altri video come questi e soprattutto se sei già iscritta sul canale, ricordati, siamo nel progetto 20.000 iscritti quindi aiutaci a raggiungere questi 20.000 iscritti invitando un'amica, mamma, nonna, zia, sorella o qualsiasi persona della tua community, invitali a far parte della nostra famiglia di ragazze ventose iscrivendosi qua al nostro canale Questi capi vi ho già fatto vedere nel mio Instagram perché appena a me arrivano tutte le cose vi faccio vedere prima la sua Instagram, quindi se volete seguirmi mi trovate come ragazza.vanitosa e andiamo subito al primo capo Di quest'abito c'erano, se non mi sbaglio, due colori, così non vedete niente ma vi metterò anche le immagini Ha questo scuola V che aiuta ad allungare la figura ma io non riesco ad utilizzarlo senza reggisena Oltre questo ha anche un bellissimo spacco sulla gamba che direi che è anche abbastanza alto quindi se siete delle ragazze che si mettono in gioco, si mettono in mostra, ok però se andate a ballare dovete stare un po' attente La cintura in vita è inclusa ed è un pezzo bellissimo che aiuta a modellare ancora di più la figura Il tessuto è bello forte Un altro vestitino è questo che ha un dettaglio davanti in veluto, super super elegante Misura mid e ha questo scuolo tipo a coricino bellissimo che secondo me starà benissimo sulle ragazze che hanno un seno un po' più prosperoso che però vogliono metterlo in mostra Il materiale è buono, vedendolo così non ci darei nulla però indossato è un bijou Questo l'ho indossato a Capodanno È molto molto sexy E io sono quasi impazzita perché come vedete la misura è mid e la gola è molto molto stretta quindi dovete camminare in piano pienissimo come delle principesse Ed è praticamente un vestitino trasparente con sotto un body che però potete sempre aggiungere un pantaloncino nero che sembrerà tutto la stessa cosa e sarà ancora più coprente per chi appunto si vuole coprire di più Ah e questo c'era sia nel colore nero che bianco e io il nero lo devo prendere assolutamente Ancora un altro vestitino mid io sono impazzita per queste lunghezze le trovo molto molto eleganti Di questo se non mi sbaglio c'era anche il nero e il rosso oltre che questo blu super meraviglioso Io ho chiesto una misura M e mi sta benissimo Non so ancora dove lo utilizzerò perché è molto elegante Bona di nero ragazze Questo sinceramente non pensavo arrivassi così Però è praticamente un body Tutto nero pieno di brillantini Sbrilluccichini Perline, paline, pietrine Luminose e dorate È bellissimo Il materiale è tipo un tulle trasparente Ma mi sembra di un'ottima qualità Io ho questa la misura S Che mi sta un po' grande Ed è anche un pochino tanto sgambato Quindi perfetto per le ragazze alte Un altro body nero Questo l'ho utilizzato a Natale Ho chiesto una misura S E mi sta da dio Adoro queste fantasie Che sono come delle linee asimmetriche Rivestite in veluto Molto molto sexy Sempre nella misura S Ho chiesto questo top Che si allaccia in vita Ha un laccio gigante Unica cosa è che rimane forse un po' troppo aperto Nella zona seno Quindi forse ho sbagliato la taglia Il materiale comunque sembra molto resistente E di qualità Fa un talone luminoso Perché non abbiamo abbastanza Sbrilluccichini in questo haul Ho chiesto questo pantalone Che è tutto morbido Mi sono messa un po' in gioco Scendo dalla mia comfort zone Ma sono molto felice di questo acquisto Ha questo dettaglio In simili coio Sia sulla vita laterale E gamba Il tessuto in paillettes Dà questo risultato super luminoso All'interno però è rivestito Da un altro tessuto Che fa con cui le paillettes Non ci diano fastidio Unica cosa è che però Qua in mezzo alla gamba Quando camminavo Sentivo che le paillettes Si prendevano l'una nell'altra Si vede che sono amiche Leggings da ginastica Per me è sempre un problema Trovare un legggings Perché diciamo che ho delle forme Un po' più morbide Quindi è difficile trovare un legggings Che mi sia proprio alla grande Questo modello è perfetto Ha questo dettaglio trasparente Tipo a riga nel davanti Nella pacchia dietro Come se fosse un tulle tutto intero Io adoro queste fantasie così creative L'unica cosa è che è un po' troppo trasparente Quindi da utilizzare solo con le magliette belle e lunghe Altrimenti si vedrà tutto Questi sono i capi che ho ricevuto Da dropshipclothes.com Vi lascerò tutti i link di questi capi Che io vi ho mostrato qua sotto nell'info box Vi ricordo di seguirmi su Instagram Così vedrete anche come abbinirò Come userò tutti questi capi E noi ci vediamo nel prossimo video Un bacione Ciao Ciao Ciao